Nato a Palermo il 30 dicembre 1993, Francesco Vassallo è un centrocampista di piede destro e di stazza media, con grande facilità di corsa e ottimi tempi di inserimento in fase offensiva, dove ha affinato una certa confidenza con il gol, come ha testimoniato la rete del 2-0 segnata nella recente e vittoriosa partita di Coppa Italia Team Cup contro il Matera, partita nella quale il 19enne palermitano è risultato fra i migliori in campo. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo ha disputato due campionati con la formazione primavera del club rosa-nero, per complessive 41 presenze impreziosite da 7 gol. Nella scorsa stagione invece è militato in forza al Foligno, nel girone B della seconda divisione Lega Pro. Con la squadra Umbra ha giocato 32 partite e segnato tre reti. Il 19enne centrocampista palermitano è stato nazionale Under-19 e Under-20 nelle ultime due stagioni. Francesco Vassallo è stato ingaggiato dal Palermo a titolo temporaneo. Grazie.